Per niente è stanco di essere uccido, dopo mano dico sento logico, mi metto dalle mie parole, mi metto quasi unico muore, si, ma meglio è fuori come intelligente, carne da dire ma non dico niente, sei capasso da me. Ora significa che mi danno se mi sento di troppo, che l'amore metto ancora in tavola, si, ma meglio è fuori come un mondo, e leggere poi lasciarsi andare a fondo, non è fuori così decente, e ragionare meglio l'uncifrente, si, ma meglio è fuori come un po' di essere ucciso da me. E poi è fuori, è fuori, è fuori, e poi di quei uomini datti gli agenti, che mi hanno fatto il mio libro, ne posso più. Le faccio vita di seguire, le faccio vita di dormire, il mio figlio che noio ha bisogno di un break che ritiene in su. Di te lì, le mani, e se la lontani di te ne mi sento, la tua amore è sentimento di te, Se no non riesco a dormire, mi fai bene, anche se dici di no, io mi rivederemo il silenzio che toglie, poi mi manchi di carne, di senso, ragione, sentimento di te, ma cosa c'è da capire, mi fai bene. Guarda il mio cuore, il mio cuore è unico, non come fosse solo un caso di limbo, ma c'è che il sole chiarda un po' con il cielo, scaldi un po' il mio cuore sotto il cielo, fermo dietro l'albollente, e ti ripeto che non ti paziente, sei già un passo da me. Amica mia, non ne dirai che pratica, l'amore è solo una questione di limbo, non è niente dell'evoluzione, non come sopra il dovere e la passione, Spesso sei così al vento, e tu profumo nebbia la mia mente, sei ad un vasco da me, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi un strato da me ti so che ti risente, io non ti speravo più. Non c'è finesse da capire, non c'è niente da chiarire, vedo la luce e lo stiamo in silenzio, gli fiori tu. Ma il peggio è che ho bisogno di me Dette le tue mani che le schiacciano stani Di carne, di senso, ragione, sentimento di te Se volo che fa dormire Mi fa il bene anche se vicino Dette le tue mani che le schiacciano stani Di carne, di senso, ragione, sentimento di te Ma cosa c'è da capire? Mi fa il bene Ma cosa c'è da capire? Mi fa il bene Ma cosa c'è da capire?